Buongiorno a tutti, eccoci all'8 marzo, una data particolare perché è la giornata internazionale della donna e infatti vedremo anche l'origine di questa data, di questa giornata internazionale. Bene, quindi vediamo allora quali sono i versetti e i morti di oggi. In Genesi 29,20 Giacobbe servì sette anni per Rachele e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava. Bellissimo, bellissimo, è sempre rimasto impresso in me questo versetto. Sette anni ha lavorato e gli parvero per avere questa moglie Rachele e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava. Veramente bellissimo, parvero pochi giorni, sette anni per l'amore che le portava. Quindi anche noi dovremo imparare a dare alle nostre mogli il rispetto e il merito che hanno, che devono avere perché davvero sono spesse volte donne straordinarie e a volte noi i mariti le trascuriamo un pochettino. Quindi impariamo da Giacobbe, sette anni servì e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava. Bello. Motti, i versetti di oggi, la donna che teme l'Eterno è quella che sarà lodata, Proverbi 31,30. Sì, anche la donna come prima cosa deve amare il Signore, deve temere il Signore, deve essere credente, no? E quindi è questa la donna che sarà lodata. Più di tutti gli altri meriti, il merito è temere il Signore, cioè rispettare il Signore, amare il Signore, servire il Signore. Questa è la prima qualità di una donna. Secondo Motto, essere donne è talmente difficile che solo le donne riescono a farlo. Anche questo mi piace molto, essere donne è talmente difficile che solo le donne riescono a farlo. Bellissimo. Parliamo dell'origine della festa della donna. Sì, l'origine della festa della donna. È interessante sapere come è nata questa data, la particolarità di questa data. Tra l'altro è un racconto piuttosto triste, sentiamo un po'. Le origini della festa dell'8 marzo risalgono a lontano 1908, quando pochi giorni prima di questa data, a New York, le operaie dell'industria tessile cotton scioperarono per protestare contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare. Lo sciopero si potrasse per alcuni giorni, finché l'8 marzo il proprietario, mister Johnson, bloccò tutte le porte della fabbrica per impedire all'operario di uscire. Allo stabilimento venne appiccato il fuoco e le 129 operarie prigionieri all'interno morirono a se dalle fiamme. Successivamente questa data venne proposta come giornata di lotta internazionale a favore delle donne. Da Rosa a Luxembourg, proprio in ricordo della tragedia. Una vera tragedia incredibile, è impensabile, non si capisce come si possa arrivare a fare qualcosa del genere, però questa è storia e oggi l'8 marzo ricordiamo la donna in particolare, perché come vedremo anche tra poco, ci sono delle differenze tra la donna e l'uomo che sono incredibili anche pensando alla nostra società di oggi, ma la differenza tra le donne e le donne è ancora molto grande. Veramente, veramente una tragedia. Situazioni da donne, tra parentesi, in Italia. 3,9 su 100 le donne primali negli ospedali. 6,9 su 100, avete capito che sono percentuali piccolissime. 33 su 100 ricevono telefonati oscene. Questa è la parte negativa. 24% hanno subito durante la loro vita molestie fisiche. 14,7% le donne dirigenti nella ricerca. 14,7 su 100. Eh sì. 5 percentuali bassissime per le donne. Purtroppo sì. Passiamo ai soggetti di preghiera di oggi. Preghiamo per le chiese evangeliche in Italia il problema dell'ecumenismo istituzionale. Sì, dico spesso questi problemi dell'ecumenismo, del liberalismo, dell'ipercarismaticismo, perché rovinano spesso molte realtà e molte persone, purtroppo. Preghiamo, preghiamo perché non siano così influenti queste dottrine sbagliate. La missione Wycliffe, la traduzione della Bibbia. La missione Wycliffe, la traduzione della Bibbia, la più grande missione nel campo evangelico, la più grande, e lavora in circa mille lingue per tradurre il Nuovo Testamento. In queste appunto lingue. Preghiamo per l'autorità della mia provincia. L'autorità, ma questa l'abbiamo l'ultima volta per la protettiva del comune, il sindaco. Adesso per la provincia. Per la preghiera di tutte le regioni d'Italia, oggi preghiamo per le marche, le chiese esistenti e l'evangelizzazione. Sì, nel piano di preghiera per le regioni oggi abbiamo le marche. Sicuramente lo leggo sbagliato, ma l'Omefi, l'opera missionaria delle Assemblee dei Fratelli Italiani. Sì, preghiamo per questa associazione. La preghiera di tutti i stati del mondo, preghiamo oggi per la Francia. La Francia, una grande nazione, molto importante. Preghiamo per l'evangelizzazione della Francia e perché dalla Francia partano anche molti missionari per portare la parola di Dio nel mondo. Bene, leggiamo i morti e il versetto di oggi. La donna che teme l'Eterno è quella che sarà lodata a Proverbi 31,30. Molto importante. La prima caratteristica di una donna è quella spirituale, temere l'Eterno, servire l'Eterno, amare l'Eterno. Essere donne è talmente difficile che solo le donne riescono a farlo. È vero, se pensiamo a quello che fanno le donne, crescere i bambini, lavorare, cucinare, portare avanti la famiglia, eccetera, le responsabilità sono tantissime ed è proprio un morto che mi piace molto. Essere donne è talmente difficile che solo le donne riescono a farlo. È molto bello. Versetto di oggi, 8 marzo, Genesi 29, 20. Giacobbe servì sette anni per Nachele e li parvero pochi giorni per l'amore che le portava. È fantastico questo versetto. Lavorò sette anni per poter sposare Nachele e alla fine poi, se andate a leggere, vedete che sono due volte sette, quattordici, perché prima gli viene proposta Lea. Comunque, la cosa bella, lavorò sette anni per Nachele e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava. Veramente dolcissimo questo versetto. Oggi vi lascio con questo versetto, con questo pensiero. Giacobbe servì sette anni per Nachele e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava. Bene, questo allora è il nostro, i nostri pensieri di oggi dal libro dell'anno. Signori benedica, grazie per essere stati con noi. Continuate a pregare per il convegno in preparazione dall'1 all'8 settembre, ma bisogna iscriversi adesso. È meglio iscriversi adesso, se si può, se si riesce. E allora, a presto!